Siamo tutti al corrente dell'emergenza che c'è stata per quanto riguarda il liceo Sella, la presenza di amianto, il trasferimento, la ricerca di aule, i lavori sono fisicamente iniziati e a questo punto quanto manca, a che punto siamo? Io spero che manchi veramente poco, spero davvero che con il mese di aprile inizi questa fase di rientro che sicuramente partirà dalle classi che ho presso il Sella Lab, dovrebbe finire l'emergenza con il 31 di marzo, quindi potrebbe essere che Banca Sella ha bisogno di questi locali ma soprattutto abbiamo bisogno noi di rientrare nella nostra scuola. Quindi a cominciare da loro, poi seguiranno gli altri ragazzi del liceo classico che sono un po' in via Cavour, quindi col Bona e con l'Avogadro e la classe che ho presso la San Francesco. In questo modo con tutto il liceo rientrato potremmo anche iniziare di nuovo qualche attività, la principale è datata a 6 maggio perché è la notte dei licei classici e quindi dopo due anni se riusciamo davvero anche a fare questo evento che piace tanto a tutti, ai ragazzi, agli insegnanti, al sottoscritto, significa davvero che stiamo ritornando verso la normalità e quindi la speranza è davvero quella. Non rientreranno ancora per quest'anno scolastico le classi che ho presso la ludoteca perché il liceo artistico ha trasportato lì i laboratori e quindi termineranno le attività didattiche presso la ludoteca in quanto rispostare i laboratori nella sede centrale anche se fosse a posto per maggio tutta quanta richiederebbe la sospensione delle attività laboratoriali quindi non ha senso interrompere in quel periodo per cui a giugno rientrerà praticamente tutta la scuola nella nostra sede di via di Sadega 20. Allora quindi come accennato quando è stato progettato un intervento si rientrerà per piani? Sì, noi sappiamo adesso che, perlomeno queste sono le informazioni che mi hanno dato qui in provincia, che il secondo piano e il primo piano dovrebbero essere già stati bonificati. L'intervento adesso dovrebbe spostarsi al pian terreno e una volta bonificato è possibile estendere la pavimentazione e quindi un rientro sul secondo piano, come dicevo poco fa, da parte del liceo classico. Allora, è stata sicuramente una vicenda che ha scosso e destabilizzato le attività didattiche, però insomma tutto è stato abbastanza contenuto, risolto grazie a un grande lavoro di rete. Sì, assolutamente, infatti devo ringraziare tutti a partire dalla provincia fino ai miei colleghi che hanno dato da sempre la disponibilità sia nella fase iniziale dove siamo stati ospitati dal preside Molinari nei locali dell'Ipsia, quando facciamo i doppi tour di pomeridiani, la disponibilità di città studi a darci altre aule, la disponibilità della stessa banca Sella con Sella Lab, quindi è stata una gran bella rete, ha creato anche delle sinergie inaspettate e sì, non tutti i mali vengono per nuocere, certo che se non ci fosse stato questo male sarebbe stato meglio, ci siamo dovuti stringere tutti ad adattarci, le difficoltà dei ragazzi, dei docenti, i trasferimenti, quindi è stato comunque un anno parecchio difficile, però è andato. Arrivederci, buon lavoro. Grazie, grazie.